Questa è la Morpho Peleides, la farfalla che vive in Colombia. Io con questa farfalla abbiamo una grande storia, perché io sono riuscita a salvarla. Quindi oggi vive questa farfalla grazie alla mia esperienza di allevamento. Io questa la lavoro moltissimo nelle pose cinematografiche, nelle pose fotografiche. Questa è molto amata anche dai collezionisti. È una farfalla da compagnia, quindi si lascia benissimo accarezzare. È una farfalla tranquilla, non vola velocemente. Questa farfalla si era ammalata e quindi questi ragazzi non riuscivano più a sostenere le loro commesse. Quando io l'ho conosciuto erano molto disperati, perché non sapevano dove mettere le mani. Così abbiamo deciso di coscrivere più tanti bruchi possibili in un ambiente molto più ristretto, perché si sono messi vicino ai bruchi e hanno fatto addirittura i turni di lavoro, perché mano a mano che il bruco mangiava la foglia, loro la bagnavano di medicina e quindi il bruco mangiava sia la foglia e sia la medicina e quindi automaticamente in tre mesi siamo riusciti a salvarla. Oggi questi ragazzi allevano in grandi quantità, ma nella cooperativa hanno assunto il doppio del personale che avevano e quindi questi contadini oggi hanno un sostentamento maggiore grazie all'opportunità di aver salvato questa specie che vive solo lì e quindi automaticamente è la loro fonte di guadagno. Queste farfalle che vengono liberate in natura sono farfalle che sono state studiate i territori dove vengono liberate, preparati i cestini e la sposa il giorno del matrimonio seminerà le farfalle nel suo territorio e quindi si insinieriranno in natura come ripopolamento, quindi verranno anche inserite tipologie che mancano nel territorio considerate quasi estinte. Questa si chiama la caligo oppure viene chiamata anche la farfalla gufo perché il suo predatore è il gufo, però ha proprio il mantello come lui, quindi questi occhi sono proprio l'occhio del gufo. Sì, con questa tipologia abbiamo girato il film al Bari dove una farfalla da due ragazzi che erano seduti al bar a prendere una birra si posava sul bicchiere e quindi questa farfalla si è posata su questo bicchiere è stata più di mezz'ora incantata lasciandosi riprendere perché queste sono proprie tipologie che si prestano molto nelle riprese. Questa è stata una nostra rinascita, quello di allevare quel nemico che noi combattevamo, proprio questa farfalla che in apicoltura viene considerata un parassita ma era molto richiesta e molto importante per l'alimentazione di tanti animali, uccelli, rettili, pesci, anfibi e abbiamo deciso di convertire l'azienda allevando questo nemico. Tutti quelli che acquistano le nostre farfalle sostengono la nostra ricerca e noi questi soldi non rimangono in azienda ma li devolviamo in questo progetto aiutando i paesi poveri. Noi ritiriamo quello che loro raccolgono in natura ma ci aiutano a studiare le farfalle dicendo le abbiamo trovate lì, avevano quell'habitat, stavano mangiando quelle piante. Con questi ragazzi ci aiutano a capire di più le farfalle che non abbiamo.